Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitteri e riconosci qui per un episodio di Racer e Clank sono qui tornati con i nostri due eroi spaziali pronti a continuare l'avventura di Erna siamo qui a quarto, stiamo infiltrando nella braccaforte, nella base di Drek e grazie a Rek e a Clank sono riusciti a passare tutte le difese ma ora mi sa che inizierà la parte bella cicciosa spero che sia così, tra caso questa parte si giungerà, se è troppo breve, al video di prima comunque, direi nell'anno avanti, pensare che conosci queste cose, bando le ciance e che faccio inizio, le esco allora, dove andiamo? Andiamo mio amico mio ecco i liravanti, box sto creando e perché stanno andando giù noi? no, Clank allora, qui vediamo un po' allora, non posso comprare niente però la palestra al plasma, si la possiamo ci dà più colpi che bella invenzione il Raritanium il Raritanium si, però possiamo comprare questo vediamo se possiamo comprare qualche parte queste due ultime abilità sbloccabili direi di no forse si invece lo vogliono quasi completare va bene dammi anche tutto siamo al massimo ok, andiamo avanti siamo pronti ho mostrato in sezuku come qui siamo solo in pratica oddio questa bomba è bellissima sì ma non posso ne dico qua no, ci fai ballare tutti no c'è la verità non c'entra il surge, peccato, peccato, ma c'è lì il surge, la tensione, la porta. Off fly, quello lì è pericolosissimo. Scusiamo le casse, no, spero quelli sì, le persone distrugge, ah lì non possono andare, veccato, distrugge qui le porte, queste qua elettriche, qui lì sceglie da noi, la card, c'è un pacchetto di carte, e dobbiamo, guarda. Oh, oh oh oh, no no no, no no, ci sono andi proprio in bocca che sto andando, fammi distruggire. Eh vabbè. Prega e balla Perché non lo vengono dissutti? Non è giusto questo Oh, quanto mi ha tolto C'è un po' di vita qui? No Eh sì però Vai Mr. Zulcon, uccidi tutti Quanto l'odio questi così L'ho fatta? E la mia libera ha ancora una chiave che c'è ancora qui da fare Mamma mia Ok L'ho fatta Bene Ora usa il trapassatore e accedi alla stazione di rifornimento Oddio C'è attiva disattiva Ok Ok Posso disattivare prima Attivare quelli al centro Ce l'abbiamo fatta Bisogna caricare il nostro jetpack Ok Ok Ho ricaricato il jetpack Bene Ripogliamo il piano superiore e raggiungiamo l'ufficio Oddio Oddio Come vedete abbiamo ampia disponibilità di Waravod È il momento ideale per espandersi in nuovi mercati galattici No 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 Dove è che i suoi maledetti campi di forza C'è un terminale di sicurezza dall'altra parte della stanza di fronte all'ufficio Raggiungilo ed isattiva il campo di forza C'è una bella bomba devo dire Capitano mi ricevi? Io e il Ratchet siamo bloccati! Ci serve aiuto! Passo! Ah ah ricevuto Render! Anch'io sono bloccato qui! Sì sì Ti credo Andatevene via nemici? Ah mi sparano addosso con l'artiglieria pesante Non credo che potrò aiutarti e quindi ehm buona fortuna Rax ci servirebbe una mano qui Rax Sono qui! Prendete schifosi sintenoidi Grandioso! A quanto pare siamo solo io e te Ma ce ne ho fatto in tanto Dalla sala di sorveglianza Nooo Mi daremo un po' di armi va Dov'è il consolo di... Plasma? Aspetto Sono altri nemici Non li vedo arrivare Poi sono lì delle volte da sbloccare che non ci riusciamo mai a fare meno che ora Qui è bloccato Sblocchiamo qui e sblocchiamo qui Ok Ok Si può sbloccare Ok Questo qua è proprio speciale penso Mi dai buona d'oro però Ci sta qualcosa che potremmo fare La nostra è più da... Più da clank Più da ratchet diciamo Sblocchiamo quei botte per quanticità Sembilebbe Oh Forza la letta La mia vita E qui cosa dovrei fare? Qui è tutto bloccato eh Potremmo fare Potremmo un condotto che ci... Ci dia Diciamo Al re Al clan che si tratta di... A chiarare tutto Allora Allora Un po' nello centro Ah Ecco i da Ok Ok Qui abbiamo fatto Dove il nemice Uh uh Siamo vicino a me era stavolta Chi possiamo fare qualcosa? No O almeno Per poco Non possiamo Potenziamo le armi Sì Il pixelato Potenziale Tutti questi tre Perfetto Abbiamo altri tre E cosa possiamo fare? Mi sembra Mi sembra Sì Il combustore Vabbè Disattivato E mo' E' una parola Ola Che direi non sta passata Lei mi da A me però Godetemi gli ultimi scappoli di vita Eh Dice te Per godermi il spettacolo Ma devo scappare Ciao ciao Quel parabutto non deve sfuggirci Continuo a sparare Ok però Tu aiutami con il nemice Però Le due ridicole armi sono Yes La cosa degli Zurkon Eh ce l'abbiamo fatta ragazzi Non ci posso credere Eh E' una parola Mamma mia Io vado a rispezionare quell'ufficio Ci vediamo lì Io vi ho un po' di cose qui Per potenziarmi Ok lui è scappato Però ce l'abbiamo altre ragazze Non ci posso credere Facciamo un ticcio largo Eh mister Zurkon Però ti devi calmare eh Amico mio Scusami No 28 La balestra Alla balestra Alla balestra Eccola qui Tutto qui è Imponente Un'ottima arma Ancora migliore No 28 Un'ottima arma E' un'ottima arma Un'ottima arma E' un'ottima arma Eh E' un'ottima arma Quindi ora saliamo E andiamo alla Fischio Penso di Drek O di Nefario O di Nefario Qui c'è vita Quasi puoi sbloccare Ora che è bello così Benissimo Dovremmo andare Di fronte C'è sempre ancora Da sbloccare ancora Qui c'è tanta Ah qui Dai Oh Quanto 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 Crescente In pratica Lei è stata di fronte lì L'ho vista Io prendo tutte le cose E poi l'ho raggiunto Dammi vita Dammi vita Qui sono Di noi Allora posso poter Inserire lì E poi guardare la leg Se riusci a avere tutti i punti Penso no? No 6 mila Però Più o meno Balestra 1 2 3 Ok Mancano solo 2 4 5 Prendiamo un po' Però Ma dove è il Brax là? Come si chiama? Sconfalso Ti vergogni L'unico che Dove è un po' Che è più forte Di tutti E' Sponfalso Io non c'è altro Da pigliare Se qua su sua C'è qualcosa No Non ci va Eh oh Qui non si tocca a noi Sì ci penso io Allora Ok Ci abbiamo fatto E' genevolo Interessante Questi sono i progetti Per uno Spianetizzatore Spianetizzatore? Perché Brax Dovrebbe distruggere Dei pianeti Non distruggere Sembra che Brax Stia tentando Di creare Il pianeta Perfetto Aspettami Aspettami Ok 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 Novalis Vuole Novalis 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 è abitato Sì 43.618.924 abitanti Gli Snarkerson Hanno appena avuto Due gemelli Dobbiamo muoverci Non c'è tempo Da perdere Ranger Riuniamoci E dirigiamoci Allo spianetizzatore E allora Ho fatto Tanto Qui ragazzi E' zurco Carano Sempre tu sei Iperattivo Qui non c'era niente Ma direi Che però Giuseppe qui Grazie L'episodio E che ne possono Ci sarà altro da fare E allora Hanno scoperto Che il cattivissimo Rack Vuole Distruggire tutti i pianeti Per creare il suo Il pianeta ideale Quindi prendere pezzi C'erano sia E creare E non vale Il stesso obiettivo E lì che c'è Lo spianetizzatore E' un pieno Da pazzi Ora Andiamo un po' Con le carte Nebula Per farce Mi piace Ok Più di una raccolta Ci abbiamo completato Qui c'è 5% Di cristalli in più Abbiamo 8 doppioni Che c'è più volte Quale potremmo Magari è questo Però pensando Ci potrei aspettare Di scambio i doppioni Che magari Cioè Scambioci di copiare Una carta Porto quella carta E vale comunque Solo un doppio Quindi Potrei aspettare Un attimo Qui miglioriamo Il pericidio Perfetto Qui migliorano anche Le armi Così E qui miglioriamo Il lancia tesla Ok Mentre con lei Che è spada fulmine E qui Per migliorare La nicchia Ma diciamo Che per oggi Finiamo più grazie L'episodio Saranno molto bene Come stanno andando Niente Comunque Fino a qui Vi sono di oggi E vi lascio un like A commentare Dilla vostra In che cosa non avete fatto Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Perciare le notifiche Dei nuovi video che usciranno E vi cosiddete Sul canale viola Se lo so le live E su vari social Come Facebook Instagram E TikTok Così per stare di più Su un lavoro Codervi altri contenuti In ultime diari Da me offerti Non ci vediamo Al prossimo episodio Dal prossimo interno Ripasso e chiudo Perciare le notifiche